Cambiamo argomento, qualche giorno fa la vicenda della coppia gay che qua a Torino ha dovuto lasciare il suo appartamento per gli insulti dei condomini, poi le due ragazze cui è stata negata la casa popolare, infine la storia di Alba di cui abbiamo parlato ieri, una storia comunque ancora da chiarire. Parliamo comunque ancora di omofobia, di omosessualità, però da un punto di vista diverso, quello delle famiglie che si trovano ad affrontare questa situazione inedita. Ne parliamo con Nella Di Costanzo, presidente della GEDO qua a Torino, l'associazione dei genitori, parenti e amici dei ragazzi omosessuali. Dunque Nella, una primissima domanda, dieci anni fa suo figlio aveva quasi 18 anni, ad un certo punto una sera le dice, vi devo dire una cosa, che cosa è successo? L'imprevisto, mamma sono gay? Ok, l'imprevisto, l'imprevisto per eccellenza. Lei non immaginava? Assolutamente non immaginavo nulla, come di solito non lo immagina quasi nessuno dei genitori, è un imprevisto perché nessuno si abitua all'idea della omosessualità. Quando sei incinta ti dicono, il maschio è femmina, ti preoccupi se è malato, ma dai per scontata la eterosessualità sempre, e per cui quando tuo figlio ti dice, sono gay, è una sorpresa assolutamente. Lei e suo marito come l'avevate presa? Insomma, una sorpresa, la delusione sicuramente perché sui figli si costruiscono progetti, si fanno castelli e in quel momento crolla tutto. Il senso di colpa ci ha accomunati, dove abbiamo sbagliato, è colpa nostra, che cosa abbiamo fatto? E questo è un percorso che è veramente comune a tutti i genitori, viviamo tutti le stesse emozioni, gli stessi sentimenti. Il punto di vista dei figli invece c'è la paura quasi di uscire fuori, come mai? Come mai? È normalissimo che i ragazzi abbiano paura. Noi genitori che sappiamo dei nostri figli omosessuali, siamo già fortunati perché sono pochi, sono davvero pochi i ragazzi che parlano, hanno paura perché l'omofobia è un dato di fatto, hanno paura di deludere i genitori, hanno paura di reazioni negative, che sappiamo che ci sono, insomma, ragazzi cacciati di casa, reazioni pesanti negativamente dei genitori, sono all'ordine del giorno. Ma poi comunque è iniziato un cammino che poi è comune anche a tante famiglie, un cammino difficile, che tipo di cammino è? Difficile di conoscenza, di informazione, abbiamo lottato anche per poterci, come dire, esporre, per metterci noi stessi la faccia, perché non è facile. Così come i ragazzi omosessuali vivono sulla propria pelle la discriminazione e lo stigma sociale, allo stesso modo le famiglie vivono un problema analogo. Metterci la faccia, cioè dire, ho un figlio omosessuale, ne sono orgoglioso, sono felice, mio figlio è una brava persona, non è facile, perché anche noi genitori ci scontriamo con lo stigma sociale della serie, hai un figlio omosessuale, ma come mi dispiace, come se fosse una malattia, no, non è una malattia, è una caratteristica assolutamente naturale e sana dei nostri figli, quindi noi lottiamo, lavoriamo, perché siano riconosciuti i loro diritti come esseri umani. Che tipo di servizio dà un'associazione come la vostra a genitori che vivono la stessa situazione? Innanzitutto facciamo da supporto ad altri genitori che vengono ad apprendere dell'orientamento sessuale del proprio ragazzo e vanno in tilt, perché i genitori che vanno in tilt sono una realtà e hanno bisogno di non sentirsi soli, di non essere gli unici nella Terra a vivere questa tragedia che viene vissuta davvero in modo drammatico, hanno bisogno di condividere delle emozioni, soprattutto questo, la condivisione di emozioni e conoscere, conoscere un mondo che finché non vieni a sapere di tuo figlio ti è completamente sconosciuto, al di là di quello che arriva dai mass media, che è tutto sempre negativo. Quindi la condivisione anche in questo caso è una chiave importante. È fondamentale, è il momento di crescita. Potete trovare solo dietro i spettatori, chi ha bisogno, anche su internet ci sono tutti i riferimenti. Ci sono i riferimenti, a Gedo Torino accoglie regolarmente i genitori, siamo su Facebook, a Gedo Torino, chioccio la Gmail come casella di posta e poi riferimenti telefonici. Grazie, grazie mille. Cambiamo argomento, parliamo del...